Buongiorno Buongiorno Non c'è angolo Franci non so perchè per scherzare forse mi ha dato una pallinata a 0 metri in mezzo non ti giuro che devo prendere la palla in mezzo Parti! Parti da lì musta Vai non c'è angolo si parte da lì Vai Torni qua si può passare sopra però con la mano possiamo tornare gli arzi per bene senza... Oh 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 Viva 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 Rafa ma a sedere e tocchi no? domanda gialla vai l'avete fatto domenica allora? 1-0 per gli altri potete lasciare l'armi? andre andre ce la facciamo andre 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 Grazie. 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 Cavallo. Vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Che ti chiami cavallo va bene, ma che corri come un cavallo non va bene. Ma corri come un cavallo a zoppo però. Cavallo a zoppo. Vieni, vieni. Bravo, Jacopo. Iacopo. Siamo andati due ore e mezzo per far nulla, dai. Il gol per la mia. Ciao, Viste. È in mezzo. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Umbratia, l'amma parlo. Molta giornata. Guarda, zo vieni. A prest Joyce. però si ti dici, parti quando vedi i compagni dentro, parla la giornata e parla la palla sta davanti, vedi la giornata rossa io aiuto io si sbaglia guarda più che giusto solo 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 c'è una cosa per la moglie però si deve prendere il vento vai vado lo mangi io lì, io lì, io lì con il pallone vai 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 dai casi non c'è non c'è non c'è quello della vendetta ce la vuoi vado elio ma dove c'è la mano c'è? bravo